Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Luculus Games su YouTube e su quella piattaforma viola devo dare like tutti i giorni, trovate il link in descrizione. Oggi ritorniamo finalmente a parlare di tattiche, oggi vi presento il 4-4-2 di Sacchi. Per presentarvi questa tattica utilizzerò due save diversi, uno in cui ho allenato in Sassuolo e un altro in cui ho allenato da Roma, chiaramente in entrambi i casi utilizzavo sempre lo stesso 4-4-2 Sacchi di cui vi parlerò quest'oggi, ma perché vi dico questo? Perché ogni volta che creo una tattica lo faccio sempre prima con Sassuolo perché ha una base molto varia di giocatori e quindi ti permette di sperimentare un po' di più, ma anche perché il gioco è talmente variabile quest'anno rispetto agli anni scorsi che non è possibile fare una sola run per capire se una tattica funziona ma bisogna fare più run. Io ne faccio almeno due, poi giro il modulo ai miei beta tester che poi mi fanno anche capire se anche loro si sono trovati bene, se si sono trovati bene mi dicono quello che gli è piaciuto, quello che non gli è piaciuto, vado a ritoccare magari qualcosina se posso insomma migliorarlo ancora e poi lo vado a pubblicare, questo per spiegarvi anche perché quest'anno sono usciti meno moduli, purtroppo ci sono stagioni in cui sembra andare tutto bene poi di punto in bianco le squadre cominciano a perdere e pareggiare come se non ci fossero domani e perdono tanti punti, questo ti porta anche a capire ma è colpa della tattica, è colpa del gioco avendo provato anche tattiche buggate vi posso assicurare che non è colpa della tattica alle volte è colpa del gioco che purtroppo è lavorare i risultati questo insomma mi costringe a lavorare ancora di più sulla tattica per cercare di smussare il più possibile renderla più stabile possibile, ecco questa è una tattica molto stabile dopo le varie prove che ho fatto ad ogni modo vi faccio vedere che con il Sassuolo mi concentro soprattutto sulle partite di campionato non vado a giocarmi le competizioni nazionali come la Coppa Italia e vado in vacanza da una partita e l'altra, come vedete il primo save con il Sassuolo è durato molto poco appena 4 ore e qualche minuto e la partita è stata salvata solo 3 volte, quando si crea il salvataggio quando si chiude il salvataggio è una sola partita di mezzo pochi salvataggi quindi una sorta di speedrun per dimostrare la bontà dei risultati così non ci può essere qualcuno che pensa che ho salvato e ricaricato finché non vincevo tra l'altro vi lascerò anche scaricare questo save così andrete anche a spucciarvi varie cosine e capirete che non è stato utilizzato neanche un editor esterno che ne so tipo fmrte per alterare i valori dei giocatori questo per evitare commenti del tipo ah come hai fatto a vincere lo scudetto con Sassuolo non ci credo ecco insomma ti puoi scaricare il salvataggio e ti levi insomma i dubbi non ci sono stati imbrogli quello che possiamo già notare da qui è che Caputo ha fatto il capocannoniere con 38 gol lui fa le veci del Van Basten di turno in questo save mentre le veci di Gullit le fa Berardi che come vedete ha fatto ben 14 assist possiamo quindi andare a passare sul save della Roma in maniera tale che andremo anche a valutare le differenze tra i due save vi faccio anche notare i risultati diciamo meramente statistici ha segnato poco effettivamente Berardi come punta ma anche perché Berardi non è proprio adattissimo a fare il trequartista andiamo a vedere cosa abbiamo combinato con il save della Roma anche con il save della Roma abbiamo vinto lo scudetto stavolta con 88 punti abbiamo vinto però anche la Coppa Italia e anche la Coppa UEFA battendo in finale il Milan è stato un save chiaramente più ricco di successi ma anche perché non andavo in vacanza da una partita e l'altra come invece facevo con il Sassuolo e soprattutto non ho simulato la Coppa Italia cosa che invece andavo a fare con il Sassuolo per andare più veloce vediamo anche qualche elemento statistico in questo caso abbiamo Dzeko molto meno finalizzatore rispetto a Ciccio Caputo perché fa solo 24 gol in 41 presenze ma anche perché Dzeko ha dei limiti soprattutto atletici rispetto a Caputo si muove veramente poco e quindi questo vi fa capire che benché noi utilizziamo in attacco un uomo d'aria serve comunque un giocatore un po' più sprintoso almeno in termini di accelerazione dopodiché però vediamo anche che Mkhitaryan ha fatto più gol rispetto a Berardi questo perché Mkhitaryan è un po' più adatto a giocare come trequartista rispetto a Berardi e si vede insomma che oltre a fare più gol ha comunque mantenuto gli stessi assist di Berardi circa andiamo a vedere anche chi altro ha segnato di più Borca Majoral per esempio ha fatto 15 gol in 21 presenze questo è un dato un po' più simile a quello di Ciccio Caputo in questo caso Borca Majoral faceva il sostituto di Edin Dzeko poi ci sta Esharavi che giocava soprattutto come ala di sinistra, ala invertita di sinistra poi anche Pedro che ha fatto il vice Mkhitaryan ha fatto un sacco di gol come trequartista poi abbiamo Berretu che tirava anche le punizioni Mancini che faceva gol sui calci d'angolo perché al solito come ogni tattica che vi creo vado anche a impostare un determinato schema sui calci d'angolo che di solito è sempre sul primo palo come lancio e poi c'è il colpitore di testa insomma che di solito è un difensore andiamo a vedere il calendario la stagione parte subito molto bene con una vittoria in trasferta in Serie A ai danni dello Spezia per 4 a 2 poi ci sono una serie di vittorie intervallate da qualche pareggio forse di troppo ma per due motivi uno la rosa della Roma non è attrezzata per giocare con il 4-4-2 ma nasce per giocare con difesa 3 come sapete il mio primo errore quindi è stato sul mercato non ho acquistato nessuno che non fosse già presente in rosa anzi ho addirittura perso a gennaio pellegrini perché mi hanno pagato la clausola di rescissione il secondo motivo è il calendario che è veramente molto fitto ci sono appunto tre competizioni diverse campionato, coppa nazionale e coppa europea quindi dovevo per forza andare sul mercato e adeguare la rosa e non l'ho fatto considerate che mancano dei veri centrocampisti laterali nella Roma ma sono più giocatori che amano giocare sulla tre quarti come Pedro, Mkhitaryan e compagnia bella Zagnolo è anche infortunato per diversi mesi quindi insomma è stato difficile andare avanti ad ogni modo la prima sconfitta arriva già contro il Bologna per 1-2 la seconda e ultima sconfitta di questa stagione arriva sempre in Serie A contro l'Inter come vedete quando si perde si perde sempre per una rete di scarto la prima eliminazione diretta in Coppa Europea è contro il Fennel dopo aver superato chiaramente facilmente un girone veramente semplicissimo poi arriva il doppio confronto con l'Inter in Europa Cup per quelli che dovrebbero essere se non mi sbaglio appunto gli ottavi anche con l'Inter ce la facciamo soprattutto in casa avendoli battuti 4-0 andiamo ancora avanti c'è il risultato clamoroso contro il Napoli dove vinciamo ben 7-0 senza che il Napoli avesse alcun espulso poi i quarti di finale contro il Real Madrid non so come ha fatto il Real Madrid a finire in Coppa UEFA ma sta di fatto appunto che abbiamo dovuto sfidare i ragazzi di Madrid andiamo avanti poi ci sta la semifinale con un'altra squadra spagnola dove andiamo a battere appunto il Villarreal che era sicuramente meno temibile rispetto al Real Madrid e poi ci sta in finale la sfida con il Milan e la sfida in Coppa Italia in finale contro l'Inter quindi abbiamo scelto due squadre milanesi in due finali di Coppa vediamo finalmente la tattica questo quindi è il 4-4-2 di Saki pensate che l'11 come scelta di ruoli l'avevo già fatto a novembre perché questa è stata una delle varie varianti del modo di Saki che ho presentato nella Saki Challenge se vi siete persi il video sulla Saki Challenge andatelo a recuperare perché insomma è davvero molto divertente siamo andati a cercare di ripercorrere quelli che erano stati i successi di Arrigo Saki cercando di però ottenerli con dei moduli che rispettassero la sua filosofia e se il modo di Saki arriva solamente adesso dopo tanti mesi rispetto a novembre è perché ho dovuto risolvere diverse problematiche problematiche come la difesa molto alta che quest'anno viene un po' penalizzata da FM21 ma ci sono stati vari update e quindi ho dovuto anche ribilanciare continuamente le istruzioni da dare ai singoli e alla squadra vediamo anche la scelta però dei ruoli nel Milan di Saki i due terzini spingevano tantissimo soprattutto quello di sinistra che nella fattispecie era spesso Paolo Maldini potevo optare quindi per due tipologie diverse di terzini o un terzino classico di spinta o un fluidificante ho scelto il fluidificante per due motivi uno mi permette di non inserire la istruzione di sovrapposizione in fase di possesso per l'intero team perché lui naturalmente si va a sovrapporre e due perché in realtà la sovrapposizione che utilizzava il Milan di Saki era quella laterale non quella classica che intende FM questo perché per quella classica sovrapposizione ci sta un regista che trattiene il pallone aspetta che il giocatore sulla fascia va fino in fondo e poi gliela ripassa questo però prevede di utilizzare come vi ho detto anche l'anno scorso un ritmo un po' più basso quando volete appunto utilizzare le sovrapposizioni o le imbucate che sono le sovrapposizioni centrali bisogna appunto abbassare il ritmo di gioco all'intero team ma io volevo tenerlo alto quindi per poterlo tenere alto mi sono appunto avvalso del terzino fluidificante le sovrapposizioni laterali che erano quelle appunto che utilizzava il Milan non sono quelle classiche sovrapposizioni ma sono le sovrapposizioni che prevedono che un giocatore sale poi ne sale ancora un altro e si creano appunto quelle che in gergo vengono definite catene ecco per riuscire a creare questo sistema di movimento che non è possibile di base da ottenere su FM perché manca il concetto di catena appunto su FM mi sono avvalso di un terzino fluidificante che sale e si scambia spesso il pallone collano invertita che a un certo punto poi glielo lascia taglia verso il centro e permette al fluidificante di andare fino in fondo e mettere appunto un cross ho scelto poi di mettere un regista largo sull'out destra perché in questa posizione spesso si trovava a giocare Donadoni che però non è una classica ala che sta molto larga salta l'uomo e mette dei cross in continuazione ma è anche un giocatore tecnico e che si sa muovere in maniera tatticamente intelligente quindi un giocatore che alle volte tagliava addirittura verso il centro e che si trovava dietro le due punte ma questo perché il Milan di Sacchi era in continua evoluzione durante i 90 minuti partiva come 4-4-2 e alle volte però si trasformava anche in un rombo dove ci stava appunto un giocatore molto alto qui un giocatore molto basso qui e due giocatori al centro mi serviva quindi un palleggiatore un giocatore che non si muovesse in maniera pragmatica in continuazione con dettagli verso il centro come farebbe l'invertita anche perché qua c'è un CC con atteggiamento abbastanza propositivo come vedrete dopo c'è l'istruzione di andare avanti appena possibile se avessi messo un'ala invertita questi due si sarebbero chiaramente pestati i piedi il regista sa quando si deve muovere in avanti sa quando deve tagliare verso il centro quindi serve un giocatore molto forte a livello anche tecnico e che abbia chiaramente dei grandi tempi di inserimento ma che sia anche abile nell'intuito quindi nel capire quando deve tagliare e quando trattenere il pallone si può mantenere largo e servire qualcuno se appunto il CC va ad inserirsi e lo servirà in questo modo con un passaggio ma si andrà ad inserire lui palla a terra tagliando verso il centro se il CC in quel momento non andrà a salire quindi mi raccomando scegliete un giocatore che abbia al solito intuito, movimenti senza palla controllo palla, passaggi, tecnica, visione di gioco e un pizzico di fantasia è un giocatore che sa anche spostarsi centralmente senza tagliare per favorire la sua posizione del tessino frutificante quindi è un giocatore fondamentale in questo modulo perché ho optato per questa coperta un po' atipica uomo d'aria trequartista beh perché l'uomo d'aria si preoccupa soprattutto di andare a fare gol e Van Buster era un giocatore che segnava veramente tantissimo e soprattutto sostava un po' di più rispetto agli altri miller di rigore poi ho messo il trequartista perché il trequartista dona tantissima imprevedibilità rispetto agli altri attaccanti un giocatore un po' anarchico che sfrutta il suo estro per capire come piazzarsi in campo e questo mi serviva per esaltare le doti tecniche di Gullit volendo però voi potreste anche optare per una punta completa perché Gullit sfruttava tanto la tecnica quanto il fisico era enorme e quindi riusciva anche con il fisico alle volte ad avere la superiorità sull'avversario ma in questo caso volevo dare un po' di fantasia in più al modulo di sacchi che ho voluto creare anche perché il modulo di sacchi dava pochi punti di riferimento all'avversario questo perché i giocatori si muovevano tantissimo in campo pensate che ogni volta che un giocatore aveva il possesso del pallone aveva sempre due possibili scarichi una a sinistra e una a destra da qui poi i famosi triangoli poi ripresi provate a riprendere anche se in maniera diversa da Sarri nel Napoli andiamo a vedere le istruzioni da dare alla squadra passiamo quindi alle istruzioni in fase di possesso ampiesa di gioco abbastanza larga per quanto riguarda il sistema di gioco partire palla a terra dalla difesa penso ad esempio a Baresi che gestiva il pallone palla a terra ed era una sorta di difensore che imposta sbarra libero che avanza chiaramente libero che avanza su FM non si può mettere se non lo si mette proprio al centro in una difesa a tre quindi è per questo che ho dovuto optare qui sul centro-destra per difensore che imposta pensando a Baresi dopodiché non ho messo in giocare la palla negli spazi perché? beh perché questa istruzione ti permette di dare un po' troppa variabilità e casualità al sistema di gioco perché si tratta di buttare continuamente il pallone in zone di campo dove ancora i tuoi compagni non ci sono e chiaramente questo va un po' in conflitto con l'idea che aveva Sacchi del suo calcio perché dietro quella imprevedibilità che vedeva l'avversario in campo dietro c'era una rigida schematizzazione dei movimenti i giocatori di Sacchi si allenavano tantissimo prima di una partita e questo all'inizio aveva creato dei problemi delle tensioni nello spogliatoio nel primo anno di Sacchi Almina vi ricorderete insomma la frase celebre di Berlusconi che entra negli spogliatori e dice ragazzi dovete migliorare i risultati perché l'allenatore resta voi a fine anno non lo so per quanto riguarda lo stile dei passaggi invece è più corti questo perché per Sacchi il passaggio lungo è chiaramente il passaggio più rischioso perché è quello più facilmente intercettabile i giocatori devono essere molto vicini per avere un passaggio che si possa sbagliare con meno facilità ritmo di gioco molto alto portare la palla in area di rigore questo perché ti porta magari a perdere un tempo di gioco ma almeno continui a passarti la palla e vai al tiro solo se realmente hai la possibilità di farlo e questo insomma rispecchia un po' la filosofia del bel gioco di Sacchi vediamo la fase di transizione qua devo dire che purtroppo come al solito c'è poco da dire pressing a tutto campo contro piede ma erano anche effettivamente due diktat del modo di giocare di Sacchi quindi in questo caso diciamo che siamo abbastanza coperti passare la palla ai terzini per quanto riguarda il possesso in fase di transizione quando è il portiere che deve gestirlo beh era così che giocava il Milan il primo passaggio era proprio lateralmente per i terzini c'è anche da dire che il portiere del Milan non era un portiere libero perché ai tempi non si utilizzava quindi era un classico portiere che appunto lanciava la palla andiamo in fase di non possesso qui troviamo altri due diktat della filosofia di Sacchi ovvero il fuorigioco e la difesa alta due cose che nei mesi precedenti non sempre hanno funzionato su FM21 ne abbiamo già avuto modo di parlare in alcuni update erano state depotenziate dopo l'ultimo update però posso un'altra volta riutilizzarle anche se qui ho utilizzato anche una piccola diciamo variante che mi ha permesso di avere una difesa alta ma ne parliamo quando vediamo le istruzioni sul singolo difensore centrale perché la chicca sta lì l'ampiezza della difesa è standard non ho messo la marcatura stretta non ho messo i contrasti aggressivi ma ho messo impedire passaggi corti del portiere e ho messo un'intensità di pressi estrema perché il modo di pressare di Sacchi era proprio intenso e quindi ci stava come istruzione vediamo ora le istruzioni sul singolo calciatore partiamo quindi dal portiere che come vi ho detto non è un portiere libero anche se nel calcio moderno quando si utilizza la difesa alta è conveniente mettere un portiere che sape giocare con i piedi questo perché può permettere un continuo scambio con i difensori centrali ma all'epoca si utilizzava più un portiere che buttava la palla in maniera laterale sui terzini l'abbiamo detto quest'anno mi sarei sforzato di più a ricreare i moduli proprio rispettando quelle che sono le filosofie dell'allenatore a cui mi ispiro quindi insomma dobbiamo rispettare i sacchi e quindi abbiamo fatto un portiere con contrasti più duri e correre meno rischi passiamo al difensore centrale qui c'è la spiegazione della chicca di cui vi parlavo prima qui pur avendo il marcatura stretta che può essere rinforzato chiaramente con un marcare un compito specifico chiaramente però questo poi è un'istruzione che voi dovete spesso cambiare in base all'avversario ed è per questo che appunto non sono andato ad impostarla ad ogni modo la marcatura stretta mi permette di avere un difensore che va chiaramente sull'uomo ma non va ad anticiparlo troppo spesso perché se avessi messo qui la intensità standard avrei avuto un difensore che si sarebbe spostato con più facilità dalla sua posizione noi sappiamo che su FM21 quando abbiamo una difesa molto alta dopo l'ultimo update rischiamo di avere un attaccante che salta più facilmente il difensore e si trova in porta mettendo però il meno pressing abbiamo un difensore che difficilmente lascia la sua posizione per anticipare l'avversario e questo ci permette di avere più sicurezza lì dietro dopodiché ho messo il core in meno rischi vediamo il difensore che imposta come l'ho impostato marcatura stretta anche per lui meno pressing anche per lui sempre per avere appunto la difesa alta che funziona su FM21 tira di meno dribbla di meno il terzino fluidificante di sinistra e quello di destra li ho personalizzati allo stesso modo quindi ve ne faccio vedere solamente uno ma vale anche per l'altro nello specifico questo è il terzino fluidificante di sinistra qui vi dico subito che volendo potreste anche aggiungere l'istruzione del contrasto più duro questo perché non l'abbiamo aggiunto all'intero team quindi si può aggiungere sui singoli ruoli in questo caso però voi dovreste avere un interprete che non è molto aggressivo nei contrasti quindi è per questo che ho preferito a livello generale non aggiungerla ma potete aggiungerla di base ci sta già il vai avanti appena possibile e allarga il gioco quando è il giocatore ad avere il possesso del pallone ma io ho aggiunto il giocare di base più stretto quando non hai il possesso del pallone il terzino ho aggiunto anche il crossare da linea di fondo e il crossare più spesso e anche il dribbla di più il tira di meno e il corri più rischi per simulare un giocatore che andasse a essere molto più propositivo togliamo quindi questa schermata passiamo a regista arretrato questo ruolo è già abbastanza personalizzato dal gioco io ho solo aggiunto marcatura stretta e contrasti più duri questo sempre perché il centrocampista mi fa da primo filtro da primo difendente perché ho la difesa già molto alta e quindi non devo mettere troppo in difficoltà i miei difensori centrali ma devo aiutarli con un interprete che sappia sì chiaramente impostare quindi che abbia bisogno di gioco controllo palla passaggio e tecnica ma che abbia anche contrasti marcatura e posizione altrimenti non sa leggere bene la fase di difesa e non sa poi intervenire mi raccomando però quando mettete il contrasto più duro il giocatore che mettete a fare questo ruolo non deve avere aggressività troppo alta altrimenti rischia di prendersi qualche carteno di troppo il dribbling non l'ho voluto impostare perché Angelotti volendo poteva insomma anche andare a saltare l'uomo ma quello che arriva al Milan è un Angelotti con qualche acciacco fisico quindi non mi sembrava giusto andare a mettere il dribbla di più anche perché avanzava più spesso Raikard che era l'altro centrocampista passiamo quindi alle istruzioni sul centrocampista centrale in supporto Raikard era un giocatore totale lo trovavi nel Milan di Sacchi sia come centrocampista alle volte come difensore altre volte come addirittura rifinitore dietro le punte ed è per questo che ho pensato a un giocatore capace di fare entrambe le fasi sia appunto quella difensiva che quella offensiva con traspiudore e marcatura stretta sempre per il discorso del primo filtro difensivo ma anche un giocatore che si sa muovere negli spazi e che va avanti appena possibile quindi anche molto propositivo ed è per questo che hai il corri più rischi e il dribbia di più metto il tira di meno per forzare il discorso di non tirare ma cercare di provare a passare di più il pallone ma chiaramente se ha lo spazio libero per andare al tiro ci va non è che non tira passiamo all'ala invertita con compiti di attacco marcatura stretta contrasti più duri come vedete spesso nelle mie tattiche ci sono sempre queste due istruzioni per i giocatori laterali ma sono stato il primo italiano a produrre tattiche proprio a insistere su queste due istruzioni per i giocatori laterali di centro campo perché in realtà sono giocatori che devono anche saper fare questo e non devono solo andare a spingere in continuazione dopodiché c'è già di base il vai avanti appena possibile e il taglia verso il centro che sono appunto i movimenti classici dell'ala invertita io ho aggiunto il giocare più stretto per dare più compattezza ma anche per tenere diciamo più libero il fluidificante di andare a sovrapporsi dopodiché ho aggiunto il corri più rischi e il tira di meno ci stava già il concetto del dribbia di più non ho voluto mettere la frequenza più alta dei cross perché l'ala invertita nel gioco di Sacchi era anche un giocatore che si inseriva a centro campo per fare il centrocampista vero e proprio piuttosto che il giocatore di fascia quindi ho voluto insistere sulla qualità delle giocate palla a terra con passaggio corto anziché andare a lanciare il pallone in profondità per il regista largo c'è poco da impostare nel senso che è un giocatore davvero iper personalizzato già dal gioco io ho semplicemente aggiunto il vai avanti appena possibile quando la squadra ha il pallone per essere un giocatore ancora più propositivo e poi ho messo il contrasto duro e la marcatura stretta al solito come faccio quasi sempre per i giocatori laterali ma ne abbiamo già parlato passiamo ai due giocatori in attacco per quanto riguarda l'uomo d'aria ho aggiunto marcatura stretta contrasti più duri libertà di movimento e tira di più volendo però voi potreste anche aggiungere il muoversi negli spazi rendendo ancora più aggressivo il giocatore non l'ho voluto ammettere perché il muoversi negli spazi ce l'ha già il trequartista quindi volevo rendere i due giocatori un po' più diversi vediamo quindi le istruzioni del trequartista per il trequartista non ho voluto personalizzare nulla questa è proprio la versione di base che ci propone FM21 voi volendo avreste potuto anche optare per un tira di meno per tentare di favorire un po' di più i passaggi verso l'uomo d'aria però così depotenziereste un po' troppo il suo essere abile anche sottoporta per il resto si poteva anche tenere palla per avere un giocatore magari un po' più basso e quindi che perdeva qualche tempo di gioco ma poteva servire meglio magari i giocatori che si muovevano intorno a lui però anche in questo caso volevo rendere il giocatore un po' diverso rispetto alla punta completa che invece ha di base il tenere il palone questi erano le istruzioni sui singoli calciatori vediamo anche cosa accade quando si porta in campo il 4-4-2 di Sacchi questa è la partita di finale di Coppa Italia tra Inter e Roma il gol dell'Inter non ve lo faccio vedere perché è un gol su punizione c'è poco obiettivamente da dire vediamo invece cosa accade dopo quando la Roma prova a pareggiare e poi vincere la gara questo è il gol che porta al paregio con una Roma che si difende con un 4-4-2 ci sta il Cicci in supporto un po' più alto e non in linea solo perché sta aggredendo il portatore di palla altrimenti sarebbe stata in questa posizione vedete però cosa accade quando l'Inter sbaglia poi ad attaccare perché Damiani viene anticipato la palla andrà quindi al nostro terzino punificante che la gira a regista largo guardate come si sta creando una sorta di rombo perché i giocatori sono appunto sfasati essendo sfasati uno attacca e uno difende si creano appunto le condizioni per avere sempre lo scarico libero su due giocatori diversi ora Perez e il regista largo di base il regista largo come vi ho detto dovrebbe tagliare verso il centro ma in questo caso non può farlo perché c'è già il Cicci in supporto che occupa questa posizione e se andrebbe a pestare i piedi ma siccome il regista largo è intelligente capisce che in questo caso non ha senso tagliare verso il centro e andrà a largo per questo vi dico è importante avere un giocatore molto forte nelle doti tecniche ma anche mentali ma anche il Cicci deve essere forte mentalmente perché altrimenti non si sa poi muovere di concerto in base al portatore di palla guardate infatti anche Cristante come intelligentemente poi si defila guardate Perez che va fino in fondo Cristante smette di avanzare avete visto fa il passo indietro perché capisce che non può più andare a dare fastidio a Perez che volendo potrebbe tagliare verso il centro ma Perez non taglia verso il centro perché va fino in fondo e metterà un cross guardate come Perez si comporta in questo caso come alla vera e propria perché Donadoni a volte era appunto il giocatore che tagliava verso il centro alle volte era invece un'ala che andava poi a crossare e qua si vede molto bene Perez va fino in fondo mette la palla al centro dove ad aggredire c'è il trequartista e non l'uomo d'aria perché il trequartista deve anche essere un finalizzatore in questo caso è Pedro che porta in pareggio la partita contro l'Inter per il secondo gol del Roma partiamo molto indietro nell'azione così vediamo che significa mettere a molti giocatori di centrocampo l'istruzione del tira di meno sono giocatori che non andranno al tiro a meno che non ci sta chiaramente un buco reale per avere lo spiraio e fare gol e significa chiaramente giostrare di più il pallone ma con raziocinio perché sono tutti giocatori che in realtà sono stati anche personalizzati per essere dei palleggiatori quindi non perderanno palla poi si vede anche che significa avere due giocatori sulle fasce che si scambiano il pallone senza avere l'istruzione attiva della sovrapposizione perché vedete il movimento un po' particolare del terzino così come vedrete anche che significa avere un difensore che imposta in squadra che tende di partire palla a terra ma se poi vede che ci sta qualcuno che si sta lanciando lo lancia con un lancio lungo è tutto chiaramente differente rispetto al difensore centrale che invece spazza la palla non lancia qualcuno e poi vediamo anche che significa avere attiva l'istruzione per portare la palla in area di rigore perché quando ci sta con l'istruzione attiva in fase di possesso i giocatori che giocano sulle fasce entrano veramente addirittura nell'area piccola e quindi diventano dei attaccanti aggiunti quindi sono quattro giocatori che poi richiedono quattro marcatori per l'avversario per essere contenuti vediamo quindi l'azione con Perez che va fino in fondo però vedete come il regista non va a tagliare per forza verso il centro come farebbe un'ala invertita ma se non ha la possibilità resta chiaramente largo anche perché qua ce l'uomo d'aria qui c'è il cc che chiaramente non avrebbe avuto senso ora siccome però è coperto cosa fa? la palla passa indietro vedete come sta molto largo il regista largo il terzino fluidificante qui non avendo l'istruzione di base alla squadra di sovrapporsi taglierà verso il centro in questo caso perché vede lo spiraglio libero se noi gli avessimo detto di andare a sovrapporsi questo movimento non l'avrebbe fatto avrebbe insistito lateralmente questo avrebbe fatto però perdere un tempo di gioco importante alla squadra perché tagliando verso il centro è più vicino alla porta quindi fa meno chilometri andiamo quindi ancora avanti la palla la gira poi al difensore al centrocampista centrale che ha l'istruzione del tiradimeno quindi non va al tiro ma passa la palla a Villar Villar ancora la scambia con Cristante entrambi i giocatori hanno il tiradimeno quindi non forzano la giocata da lontano Cristante la gira ancora al terzino il terzino non ha spiragli quindi la passa a regista largo il regista largo la passa a Mancini avete visto Mancini cosa ha fatto ha lanciato il pallone a Chesús che è molto lontano ma è chiaro lo può fare perché è un difensore che è in posta che ha quei tempi di visione che non hanno i difensori centrali normali Chesús che è il terzino putificante la passa subito all'ala invertita che ha tagliato verso il centro però in questo caso chiaramente è marcato quindi cosa può fare mette la palla sul secondo palo abbiamo Perez anticipato vedete come però abbiamo 1, 2, 3 e 4 giocatori tutti in questa zona di campo si hanno proprio perché abbiamo l'istruzione del portare la palla in aria in questo caso la palla finisce ancora il terzino putificante che la mette ancora al centro e qui si vede un'altra volta come ci sono ben 4 giocatori che attaccano l'area piccola perché prima Esharavi chiaramente si era defilato per provare il cross ma in questo caso è ritornato al centro e qui si vede esattamente come ci sono 4 giocatori nell'area piccola pur essendoci solo 2 punte quando chiaramente il pallone ce l'abbiamo noi lo possiamo gestire possiamo portare ben 4 giocatori in area piccola e quindi chiaramente qui non ci sono i giocatori che possono andare a marcarli tutti e alla fine Esharavi riesce a trovare il gol della vittoria questa invece è la finale di Coppa UEFA tra la Roma e il Milan vedremo i due gol della Roma ma vedremo soprattutto i movimenti del regista largo che contro l'Inter abbiamo visto essere molto largo esterno nella zona laterale del campo in questo caso invece taglierà spesso e volentieri ma perché? perché ci saranno le condizioni per tagliare verso il centro ricordatevi che il regista largo per saper fare sia il movimento laterale sia quello verso il centro deve anche avere buoni doti senza palla nel senza palla nell'intuito e nelle decisioni oltre ad avere chiaramente le classiche qualità tipiche del palleggiatore tecniche controllo palla passaggi e visione vediamo quindi cosa porta al gol del vantaggio di questa Roma Esharavi che in questo caso è l'ala invertita può subito servire il trequartista Pedro cosa fa? mantiene il possesso del pallone guardate cosa sta facendo il regista largo è partito molto largo sta tagliando verso il centro in questo caso è Mkhitaryan che ormai si trova praticamente nella posizione di attaccante questo non solo perché ha la possibilità di tagliare verso il centro come istruzione di base del regista largo ma anche perché abbiamo aggiunto in fase di possesso per la squadra il portare la palla in aria il regista largo quindi entra e fa un gol in diagonale vediamo il secondo gol qui vediamo Santuan che gestisce il pallone per Veretout che in questo caso fa il CoC in supporto vedete come il CoC in questo caso è più basso del regista arretrato questo perché come vi dicevo in precedenza il Cicci in supporto deve essere propositivo ma deve anche essere un giocatore capace di aiutare quando la costruzione si fa dal basso o comunque quando bisogna difendere quindi è un giocatore totale e in questo caso fa la fase di impostazione del gioco vedete come gira la palla subito a Zaniolo che in questo caso è il regista a punto largo sulla destra Zaniolo qui parte molto largo ma guardate cosa accade Zaniolo passa la palla a Dzeko appena gira la palla a Dzeko cosa fa anziché stare largo e andare fino in fondo taglia verso il centro vedete come sta tagliando verso il centro Zaniolo e chiaramente questo porta il difendente avversario a marcarlo in questo caso però Dzeko anziché servire Zaniolo ha visto sull'auto opposto l'ala invertita che si comporta sempre come attaccante aggiunto vedete come si è mosso molto bene senza palla e quindi poi è servito davanti al portiere e fa gol mi raccomando l'ala invertita deve avere sì un minimo di contrasti e marcatura ma puntate sempre su un giocatore con agilità velocità e accelerazione perché per essere veramente aggressivo e devastante su questa zona di campo l'ala invertita deve essere sguscevole vediamo adesso quali sono le sessioni di allamento più utili per questo specifico modulo 4-4-2 di Sacchi beh sicuramente l'attacco sulle fasce perché come abbiamo visto sfruttiamo tantissimo la zona laterale del campo anche le sovrapposizioni perché ovviamente pur non avendo messo il concetto di sovrapposizione in fase di possesso per quanto riguarda la creazione tattica abbiamo detto che sfruttiamo i tersili fluidificanti che spingono tantissimo e si devono creare quelle catene laterali quindi è importante questa sessione di allenamento passiamo invece alla componente tattica beh l'attacco senza palla è fondamentale abbiamo visto che ci sono tanti giocatori che devono sapersi muovere senza il pallone che poi devono essere serviti e andare quindi in possesso e creare poi la superiorità numerica passiamo adesso alle sessioni tecniche di allenamento finalizzazione e creazione delle occasioni sono sessioni che io consiglio sempre a prescindere dalla tipologia di modulo che si sceglie perché ci permettono di essere molto più propositivi la creazione delle occasioni permette di creare quante più occasioni offensive possibili mentre la finalizzazione ci permette di migliorare la nostra capacità poi di fare goal in queste situazioni offensive circolazione del pallone questo è fondamentale perché noi abbiamo a che fare con un modulo che deve comunque gestirlo il pallone non bisogna andare subito in verticale come si farebbe ad esempio nel gigan press bisogna mantenere il possesso e bisogna saperlo gestire senza perderlo dopodiché transizione pressare e transizione chiudere sono fondamentali servono per la fase di transizione positiva e quella negativa quindi sia quando non abbiamo il possesso del pallone ma lo stiamo appena recuperando e quindi dobbiamo poi impostare sia quando l'abbiamo appena perso e dobbiamo chiaramente metterci in modo da poterlo recuperare dopodiché costruzione dalla difesa abbiamo detto che si parte dalla terra dalla difesa abbiamo un difensore che imposta molto importante che ci deve permettere quindi di migliorare la nostra capacità di impostare dalle retrovie il gioco il video sul modulo sacchi termina qui vi ricordo che in descrizione trovate sia il link per scaricare solamente il modulo sia il link per scaricare l'intero save con il sassuolo così insomma potete andare a spulciarvi anche altre tipologie di colfatti e il subiti non mi resta altro da fare che salutarvi ci vediamo al prossimo video di EFM ma vi ricordo che sono ogni giorno in live su quella piattaforma viola da lunedì al venerdì dalle 20 mentre sabato e domenica dalle G7 buon salvone di EFM